la compagnia del cigno è stata una bellissima serie e intelligente fatta col cuore Ivan Cotroneo mi piace moltissimo poi il fatto interessante è che siano tutti musicisti che lui Ivan Cotroneo fa diventare attore non si suona soltanto con le mani con lo strumento ma anche con gli occhi gli occhi sono importanti